Cambiano le regole per il reso su Vinted, pronti a scoprire come funziona? Ciao sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio spiegarvi come funziona il reso di Vinted con questa nuova modalità ma prima di farlo ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno qua le regole per fortuna sono cambiate, diciamo che era l'unica cosa che veramente era proprio pesante su Vinted ovvero il reso pesante perché creava sempre un sacco di problemi, incomprensioni con chi acquistava, chi vendeva e diciamo che l'app ha provato a metterci una toppa sopra si, non è perfetto assolutamente no tutto si può migliorare in generale nella vita ma almeno ci hanno provato e oggi vi spiegherò come funziona per l'acquirente fare un reso perché io l'ho fatto e vi farò vedere come proprio ho fatto io personalmente mentre nel prossimo video vi spiegherò come funziona dalla parte del venditore salto direttamente la parte in cui ho acquistato l'articolo perché penso che se siate arrivati a questo punto è proprio perché avviate bisogno di fare un reso e vogliate sapere come funziona ho acquistato un videogioco su Vinted dal valore di 5 euro con la spedizione gratuita grazie a una promo dell'app dopodiché come ho fatto presente in tanti altri miei video ci sono 48 ore da quando si ritira personalmente il pacchetto per testare che sia tutto a posto e io così ho fatto ho testato il videogioco in tutte le sue parti appena ritirato proprio per capire se effettivamente c'era qualcosa che non andava oppure era tutto ok purtroppo in questo caso il gioco dava problemi e come segnala anche Vinted nella parte riguardante il reso nel centro assistenza sarebbe meglio in primis trovare una soluzione con il venditore e se non si riesce a trovare un accordo comune oppure se il venditore proprio non risponde al messaggio è bene segnalare il problema quanto prima io come faccio sempre ho cercato di risolvere innanzitutto il problema con il venditore che è stato molto gentile nei miei confronti anche se a un certo punto ho pensato che mi stesse prendendo in giro poi ho capito che era solo ignoranza nel conoscere le modalità di gestione della piattaforma perché mi ha chiesto sì di fare il reso a mie spese ovviamente di spedire il pacchetto quando volevo e poi lui una volta che il pacchetto sarebbe arrivato mi avrebbe fatto il rimborso tutto questo ovviamente fuori piattaforma nel senso lui avrebbe fatto passare le ore di tempo e poi chissà in che modo e come mi avrebbe ridato i soldi ma assolutamente non si fa così il venditore deve sì autorizzare il reso oppure ci penserà poi la piattaforma ma si fa tutto all'interno dell'app dopo aver discusso con il venditore ed aver preso accordi con lui per fare il reso ho quindi cliccato su ho un problema per poi specificare che non avevo ricevuto quello che mi aspettavo e successivamente ho segnalato che l'articolo in questione era danneggiato in quest'ultima sezione potete fare anche altre dichiarazioni come ad esempio che l'oggetto è arrivato falso in questo caso però vi consiglio prima di aprire la segnalazione di fare tutte le foto ben dettagliate dove effettivamente l'articolo si riconosce che è un falso rispetto ad un vero ad esempio in questa foto raffigurate l'etichetta che dovrebbe essere con dei numeri seriali e non ci sono in un'altra foto raffigurate che le cuciture sono fatte male anche perché tutto andrà poi descritto con una relazione meglio ancora se c'è il certificato di originalità lo so non è obbligatorio ma è un'arma in più che farà sicuramente avere tutte le ragioni dalla vostra parte sempre in questa sezione potrete dichiarare che la taglia è molto diversa rispetto a quanto descritto ma molta molta attenzione a quello che dichiarate perché bisogna analizzare prima di fare l'acquisto e anche se si verifica un problema che cosa riporta alla descrizione dell'annuncio perché se il venditore ha messo taglia 42 scrivendo in descrizione attenzione perché veste larga le misure specifiche sono x y e z ovviamente l'assistenza non potrà dare ragione a voi perché c'era scritto tutto quindi dovevate prendere le misure e vedere che effettivamente questa taglia 42 che veste un po' grande faceva il caso vostro diversamente se la taglia è 42 e poi vi arriva un pantalone 38 e lì ovviamente si può fare il reso durante l'acquisto di un set si potrebbe anche ricevere solo parte del materiale oppure in un normalissimo acquisto di un elettrodomestico ad esempio si potrebbe ricevere qualcosa che serve per farlo funzionare mancante in questo caso proprio selezionando ho ricevuto un ordine incompleto oppure sbagliato si potrebbe segnalare una cosa del genere ma anche potrebbe essere utile quando a me non è mai capitato ma ho visto dei post su facebook con venditrici in panico proprio per questo un venditore scambia le etichette e a questo punto ovvio che arriverà un oggetto che non si è ordinato in ultimo si potrà anche segnalare se l'oggetto è arrivato danneggiato a causa della spedizione però attenzione bisogna distinguere da dove arriva il danneggiamento se ricevete un pacco in perfette condizioni aprite dentro c'è una maglia bucherellata ovviamente non sarà stata colpa del trasporto mentre se ricevete un pacchetto con un bel taglio sopra e proprio in corrispondenza di quel taglio quando lo aprite sotto la giacca che avete preso ha anche un taglio è ovviamente colpa dello spedizioniere in questo caso quindi bisognerà andare in questa specifica sezione non ho specificato che c'è anche la voce riguardante l'articolo che non è di gradimento dell'acquirente e non l'ho fatto non per una dimenticanza ma perché ovviamente questa regola vale per quando si acquista da un venditore pro in questo caso sulla piattaforma la maggior parte degli utenti sono privati e come già detto più volte se si acquista da un venditore privato non ci sono i 14 giorni di diritto di recesso e non c'è la possibilità di rendere un oggetto solo per ripensamento è arrivato a lo volevo alla fine di un altro colore oppure non è piaciuto a mia madre e lo restituisco attenzione però perché devo fare una precisazione per quanto riguarda gli articoli contraffatti infatti se un articolo verrà ritenuto contraffatto Vinted darà la possibilità di tenere l'oggetto e riceverà allo stesso tempo un rimborso quindi non ci sarà il caso di fare il reso se ritenete quindi che l'articolo sia falso fate una segnalazione con tranquillità senza preoccuparvi di eventualmente dover pagare o meno il reso continuando con il mio reso come da prassi ho allegato le foto che dimostravano il malfunzionamento del gioco e allo stesso tempo nella descrizione del problema ho aggiunto che il venditore accettava il reso in quanto ci eravamo messi d'accordo in chat proprio perché io e il venditore eravamo già d'accordo non c'è stato nessun problema e l'assistenza non è intervenuta perché dal momento che io ho fatto la richiesta lui dall'altra parte ha accettato il mio reso perché avrà il pulsante apposito proprio per accettare il reso e io ho potuto spedire l'oggetto senza alcun problema se invece il venditore non è d'accordo crea problemi o non risponde in questo caso bisognerà aspettare che intervenga l'assistenza farà le proprie indagini e deciderà se forzare il reso oppure se dare ragione al venditore dopo 5 minuti mi è arrivata una notifica nella quale c'era scritto di spedire l'articolo entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento proprio della notifica stessa attenzione però perché bisognerà restituire proprio tutto 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 al venditore non si può ottenere la scatola originale del prodotto il libretto di istruzioni o un accessorio e spedire il resto bisogna rendere tutto quello che è arrivato imballando ovviamente con cura io consiglio sempre di tenere l'imballaggio originale del venditore proprio per quello di modo tale che si limitino al massimo i danni che possano essere causati proprio dal trasporto una nota interessante però in questo caso riguarda i set infatti se si acquisterà un set non si potrà restituire solo qualcosa e tenersi altro bisognerà restituire tutti gli articoli presenti nel set ad eccezione fatta di quelli contraffatti una volta imballato l'ardicolo arriva qua la novità infatti tramite l'app adesso ci sarà un'etichetta di spedizione da poter utilizzare ovviamente sempre presente anche la scelta per fare la spedizione a carico proprio ma questa dell'etichetta è una soluzione molto interessante ma il dubbio è gratis o a pagamento? nel mio caso una volta cliccato il tasto per procedere alla creazione dell'etichetta mi sono uscite due voci ovvero la consegna presso un punto postale con etichetta prepagata quindi gratuita perché l'aveva direttamente pagata Vinted oppure la possibilità di organizzare per conto mio la spedizione io in questo caso ho scelto la spedizione tramite poste quindi mi è stata data la possibilità di scaricare l'etichetta stamparla per poi appiccicarla sopra il pacco e decidere se portarla in un punto poste ufficio postale o anche al locker nel mio caso quindi io non ho pagato nulla ma restituire un oggetto quindi è sempre gratis? grazie a una segnalazione di uno di voi ho scoperto che effettivamente il reso non è sempre gratuito vediamo prima i casi di esclusione sicuri non sarà infatti disponibile l'etichetta prepagata dalla piattaforma quando si sarà fatto un acquisto presso un venditore pro e se la spedizione fatta dal venditore era personalizzata e per tutti ovviamente gli articoli consegnati a mano altri utenti invece mi hanno fatto presente che c'era la possibilità di spedire ma il reso era a pagamento e non gratuito purtroppo non ho abbastanza informazioni per dirvi se dipende dalla categoria che io ho scelto quando ho fatto il reso oppure se dipende magari dal fatto che avevo la spedizione gratuita del venditore verso di me quindi in automatico anche il reso questo purtroppo non lo so però so per certo che le spedizioni tramite Vinted per il reso sono veramente economiche e anche assicurate e tracciate all'interno dell'app quindi è un'opzione che conviene sicuro rispetto a farsi carico di una spedizione proseguendo con il mio reso ho lasciato il pacchetto imballato con l'etichetta attaccata presso l'ufficio postale il 5 dicembre durante la mattinata e il giorno successivo si è aggiornato il codice di tracciabilità anche nella chat proprio con il venditore di modo tale che quindi potessimo tutti e due seguire l'andamento della spedizione purtroppo il reso non è stato molto veloce e tra tutto la spedizione è stata consegnata dopo diversi giorni e dopo un giro molto lungo fortunatamente il venditore ha ritirato l'oggetto lo stesso giorno che lo ha ricevuto ed ha sbloccato immediatamente il rimborso avete capito bene il lavoro del venditore non è finito e il reso non si conclude qua infatti una volta che sarà arrivato al punto di ritiro il venditore dovrà ritirarlo controllare che sia tutto ok e poi deliberare entro 48 ore che effettivamente quello che è arrivato è quello che lui ha spedito per evitare problemi con il venditore che potrebbe accettare il reso ma allo stesso tempo cercare di fregarvi dicendo di aver ricevuto un oggetto diverso rispetto a quello spedito da lui fate un video del pacchetto mentre imballate proprio il reso io l'ho fatto e lo faccio sempre proprio per tutelarmi in caso di disguido con il venditore del resto faccio anche un video unboxing quando un venditore mi spedisce proprio un oggetto perché onestamente preferisco essere tutelato e metterci quei due minuti a posizionare il cellulare e fare un video rispetto ad essere fregato posso immaginare adesso le classiche domande ma se un venditore dichiara che l'oggetto ricevuto non è quello che ho spedito io ma se un venditore dichiara di aver ricevuto il pacchetto vuoto e se eventualmente il venditore dice che l'oggetto ricevuto è lo stesso ma ci sono più danni che succede? purtroppo non ho la palla di cristallo e non posso dirvi che cosa vi succederà ma sicuramente come dico sempre dall'altra parte non ci sono dei robot ma ci sono delle persone umane che analizzano la situazione pertanto proprio se il venditore dovesse dichiarare che c'è qualcosa che non va e voi vi siete tutelati con un video unboxing quel video sarà la prova che in realtà è tutto andato nel modo corretto da parte vostra quindi c'è qualcosa che non va proprio da parte del venditore io per fortuna come detto prima ho incontrato un venditore onesto che non mi ha creato problemi sulla restituzione e praticamente subito dopo aver ritirato il pacchetto mi ha sbloccato il denaro e il rimborso è arrivato proprio nell'immediato spero che quindi sia chiaro come si fa un reso su Vinted ma per qualsiasi altro dubbio o domanda la sezione commenti è sempre aperta vi leggo tutti e cerco di rispondere con celerità vorrete mica perdervi tutte le novità riguardanti l'applicazione più famosa per comprare e vendere vestiti online vi lascio una playlist dedicata insieme a un video consigliato direttamente da youtube per voi ma non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network non mi rimane che augurarvi buoni acquisti e buone vendite su Vinted